Dopo una serata trascorsa in un noto locale del Lido di Fano, l'amara sorpresa. La borsa appoggiata sulla sedia non c'è più. La proprietaria, una ragazza, non si perde d'animo. Chiamò subito i carabinieri e denuncia l'accaduto. Per fortuna, a suo interno c'era il cellulare, sul quale aveva installato un'applicazione utile a localizzarlo. Seguendo le indicazioni fornite dal sistema, si è scoperto poi che la borsa stava viaggiando in direzione sud, verso Marotta. Ma ad un certo punto il telefono si ferma davanti a un pub. Alla pattuglia del nucleo operativo radiomobile di Fano, intanto, si aggiunge nella ricerca quella di Marotta. Controllate i clienti, sembrava che non vi fosse traccia né della borsa né del telefono, che nel frattempo continua a squillare. Tra i clienti vengono notate tre ragazze, che senza trasparire nessuna preoccupazione escono dal locale, salgono in auto e si allontanano. Dopo poco il cellulare comincia a muoversi nuovamente, finché viene spento. A quel punto, nei dintorni, si nota la stessa macchina, vista di fronte al pub ed utilizzata dal trio poco prima. Rintracciata la proprietaria, una 39enne del posto, dopo le iniziali resistenze, consegna l'accessorio con tutto il suo contenuto. Un telefono, 150 euro ed un paio di orecchini in oro. La donna, dà agli agenti una giustificazione inverosimile, l'avrebbe trovata per terra all'interno del locale fanese, mentre era in compagnia di altre quattro amiche. L'avrebbe presa, spiega, per poi consegnarla il giorno successivo in caserma. Ma sul perché, alla vista dei militari di fronte al pub di Marotta, non ne avesse fatto cenno, il silenzio. La 39enne è stata denunciata in stato di libertà per furto e gli oggetti sono stati riconsegnati alla legittima proprietaria.